Soprattutto wow 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 No, 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 no Wow! Dai! Bravo! 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 Che staglio, è tutto questo Paolina! Devo dire che stasera abbiamo avuto Paolina Borghese! No! Davvero! Non ragazzi... GrupeAMA Che staglio! Guarda!! 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 Non te li senti male! Non te li senti male! Eeeeuuih!!! che cosa ha? no la magia no la magia no la magia grande Polina mi sembra apprezzata no la magia 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 canté a troppo vinto no 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 grazie 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 grazie